Ehi in armi e shies per alle vai e iurda Io hit the club insomma un guarda Parla tutti ragazzi Questa è un video qui E quest'oggi parleremo I reaction voti al Partita Napoli Fiorentina Che sto leggendo da qui Quindi A posto Nettiamo subito Con il Napoli Che ho fatto 6-0 contro la Fiorentina Iniziamo subito con Ospina Ospina 7 Aisi 6 e mezzo Manolassa 7 Kulibali 7 Mario Rai 6 e mezzo Damè O Damme Non lo so 7 e mezzo Bacca Yoko 7 Lozano 7 e mezzo Zielischi 7 Insigni 8 Petagna 7 e mezzo E quelli che sono entrati Che sono 1,2,3,4,5 Di questi 5 Soltanto 1 Gli ho dato il voto Perché alla fine E' stato un po' di più In campo Credo Mertens Noi gli ho un voto Raimanni Noi gli ho un voto Politano 7 Elmas 0 Cioè Noi gli ho un voto Cioffi Adesso arriviamo a Gattuso A Gattuso Che è dato 7 e mezzo Voi adesso Napoletano Fiorentini Direte 7 e mezzo Ma ho vinto 6 e 0 Secondo me è così Quindi non parlare Andiamo alla Fiorentina Che ha fatto 0 gol Dragosti 5 Igor 4 e mezzo Milenkovic 4 e mezzo Pazzella 4 e mezzo Venuti 4 Ambrabat 4 Castellovici Castellovilli 4 Biraghi 4 e mezzo Castelliglione 4 e mezzo Riberi 6 Kaomè 5 e mezzo Blaovic 5 e mezzo Prandelli 4 L'entrata che sono soltanto due Che sono di Polgaro E di Bonaventura Che non sono servite a nulla Quindi non vi do un voto E ragazzi Per questo video è tutto Da qua ad Anto e Manfri È tutto Iscrivetevi Lasciate like E iscrivetevi di nuovo E lasciate like E seguitemi su Instagram Anto-Ces09 E anche sul canale di Anto e Manfri E anche su Instagram di Anto e Manfri Cioè Anto-Manfri Non mi ricordo Quindi Il punto è questo Seguiteci Ciao